All'Allianz Arena di Monaco di Baviera l'Italia di Conte sfida i campioni del mondo in carica della Germania. Il CT azzurro sceglie il 3-4-3 con il tridente giovane composto da Bernardeschi, Zazza e Insigne. Dall'altra parte Low con il 4-2-3-1, Goetze, Özil e Draxler alle spalle di Müller. Si parte dopo il minuto di silenzio in memoria di Johan Cruyff. L'Italia prova subito a fare la partita ma all'ottavo c'è il contropiede tedesco, inserimento centrale di Özil con la chiusura provvidenziale da parte di Darniana. Al 23esimo Müller la mette in mezzo, Borucci allontana sui piedi di Kroos l'interno destro e il gol del vantaggio della Germania. Seconda rete nel giro di una manciata di giorni per Kroos dopo il gol all'Inghilterra ed è 1-0 per i tedeschi. L'Italia soffre, la Germania insiste, ci prova anche Müller con Buffon che si salva in calcio d'angolo. Al 31esimo tocca Draxler cercare la porta azzurra con Buffon che riesce a distendersi. Allo scadere Müller vede molto bene Goetze che piazza il 2-0 con un colpo di testa la rete dell'eroe della finale mondiale di due anni fa contro l'Argentina. Bravo Goetze a beffare sia Darmian che Florenzi. 2-0 all'intervallo. L'Italia prova a scuotersi nel secondo tempo e allora subito insegna a inventare per Montolivo controllo esterno con la palla che finisce sul fondo. La Germania tuttavia continua a giocare meglio la grande azione di Draxler. Triangolo con Goetze e poi l'assist a rimorchio per Hector che piazza il 3-0. Primo gol in azionale per il 25enne centrocampista del Colonia. Nell'occasione si fa anche male Leonardo Buonucci che è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto entra Ranocchia. Al 23esimo si rivede l'Italia con la palla di Motta per Zazza. Controllo con il petto e poi un tiro di controbalzo che termina alto. I cambi di Conte entrano tra gli altri Okaka. Parolo e del Sharawi. Ma al 29esimo è ancora la Germania con il lancio di cross per Rudy che viene stesso in area di rigore da Buffon. È calcio di rigore per la Germania. Dal dischetto si presenta Mesut Ozil che spiazza Buffon e piazza la rete del 4-0. L'Italia prova a reagire almeno con l'orgoglio. Ci prova Ranocchia sulla punizione di Bernardeschi con la palla che finisce a lato. Non trova la porta il difensore azzurro. Al 37esimo Okaka per il Sharawi che si gira. Va al tiro deviato da Rudiger e c'è il gol della bandiera per la nazionale di Conte con Ter Stegen messo fuori causa dalla deviazione del compagno di squadra. Terzo gol in nazionale per il Sharawi in 18 presenze. A Monaco di Doviera finisce 4-1 per la Germania che torna a battere gli azzurri dopo quasi 21 anni. I tedeschi non avevano mai battuto gli azzurri negli ultimi sette incroci.